La protesta degli agricoltori è arrivata domenica mattina fino a Roma, dove una delegazione si è regata in piazza San Pietro con la mucca ercolina per l'Angelus del Papa. La modifica dell'esenzione dall'IRPEF agricola per i redditi fino a 10.000 euro non ha placato la rabbia degli agricoltori, anche quelli salentini che continuano a tenere alti cartelli con su scritto il cibo non nasce il laboratorio e così hanno risposto no all'apertura del governo chiedendo la riforma strutturale dell'intera politica agricola e continueranno a protestare finché non avranno raggiunto l'obiettivo. Siamo qui per avere una speranza, hanno fatto sapere gli agricoltori che hanno raggiunto la capitale. C'è poi il secondo aspetto, per nulla secondario a detta dei manifestanti e che riguarda le associazioni di categoria che hanno preso parte all'incontro con il governo come Confagricoltura, Coldiretti e CIA. A loro gli agricoltori hanno chiesto di abbassare le bandiere e in qualche modo mettersi da parte, chiedendo poi di partecipare con i vari rappresentanti ai tavoli istituzionali.